Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud, proverando da Bologna per traffico intenso. Troviamo inoltre i rallentamenti per operazioni di ripristino in seguito a un incidente tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Ci sposiamo sulla Firenze Mare, rallentamenti e code verso Firenze per traffico tra Pistoia e Blivia 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilli restano code a tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici verso il capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze, stanotte e domani notte in programma la chiusura della rotatoria Forlanini per i getti sul viadotto San Donato. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!